Buongiorno a tutti, allora pizza, libidine, prosciutto e funghi stasera, prosciutto e funghi con la solita aggiunta di booster, patatini e gamberetti vi apro un attimino la questione per farvi vedere anche il prosciuttino, eccolo qua i funghetti, eccoli qua i funghetti, vabbè si vede, un funghetto tra l'allà, due funghetti tra l'allà gamberetti si vedono, eccolo lì, gamberetto, il vusterone si vede, le patate si vedono quindi grandissima libidine di pizza, stasera si va così e vi faccio venire l'acquolina in bocca sperando che l'amico napoletano non abbia nulla da ridire su questa pizza visto che ogni tanto c'ha qualcosa da ridire detto questo ragazzoli buon appetito a tutti e ci vediamo alla prossima, ciao